Salve e benvenuti in Macelleria La Scottona, qui in Corso Marconi 13 a Cava dei Tirreni. Adesso vi mostro alcune nostre specialità che prepariamo tutti i giorni. Allora, andiamo nel banco con una biennetta di carne, con il ripieno di funghi porcini, salsicce e provola, buonissima da provare. Poi facciamo una crosta di patate e rosmarino, pronta da infornare, pochi minuti al forno, 180 gradi ventilato. Dei filetti di maiale in crosta di pistacchio di bronte, una chicca per i nostri palati. Prepariamo ancora coni di gelati col gusto di rosmarino e pancetta. Poi facciamo dei cupcake di carne, sempre nei pirottini, pronti da infornare, come un dolcetto. Prepariamo hamburger al cioccolato con vente, sono dei cuori con il ripieno di fior di latte. Accettiamo anche prenotazioni online su Facebook e Whatsapp. Ci mandate un messaggino, lo leggiamo in diretta ed è pronta la prenotazione. Allora, udite, udite, signore e signori. Noi, Macelleria L'Ascoltona, avete capito bene? Facciamo una linea vegetariana, solo per i vegetariani. Ingredienti semplici, legumi, zucchine, carote, verdure. Facciamo col cuore di scamorza, salsicce, hamburger, polpette vegetariane. Ci saranno tante novità, poi non ve le svelo. Cuori vegetariani con il ripieno di mozzarella, incredibile. Potete venire a visitarci perché in famiglia, si sa, c'è sempre qualcuno che non mangia carne. Il nostro punto di eccellenza, si sa, è la nostra scottona amarezzata. Venite a trovarci e in questi giorni distribuiremo anche delle brochure con tutte le informazioni necessarie. Vi aspettiamo, corso in marcone numero 13, Cava dei Tirreni, Macelleria L'Ascoltona.